Non si placano le polemiche sulla questione dei casoni d'oria dopo la decisione della Giunta di non esercitare il diritto di prelazione all'acquisto. A lanciarsi all'attacco è il consigliere indipendente Alfonso Baldi che accusa la sindaca invitandolo a portare la discussione in consiglio comunale. L'atto di cessione fatto dai Ponte Corva, questa persona di cui non conosco l'identità, è un atto legittimo. Questo lo voglio ribadire perché non voglio che venga strumentalizzata la mia posizione. Il dato è meramente politico, non è il privato che si deve preoccupare di valorizzare un bene culturale, ma è la politica che con le proprie scelte determina la valorizzazione. La legge impone all'ente di provvedere alla conservazione del bene. Quindi ne è responsabile. Se in un'operazione del genere non si dovesse sentire tutelato, ha il dovere secondo me di intervenire al fine di conservare questo bene e a quel punto cercare tutte le soluzioni possibili per valorizzare. Ma la politica per l'appunto dove ha sbagliato in questo senso? La politica sbaglia uno nel prendere una decisione affrettata, senza avere una documentazione a supporto, non c'è una relazione tecnico-estimativa rispetto ai costi di manutenzione, o quantomeno, voglio dire, almeno all'evidenza, perché nella delibera non si fa menzione di nulla di tutto questo. Questo è un errore gravissimo, ma l'errore ancora più grave, secondo me, è quello che si prende una decisione ingiunta, mentre la competenza, a mio avviso, ma non solo, a mio avviso, anche di persone che di diritto ne masticano molto, ma molto più di me, è una competenza del Consiglio. Ma non ne voglio fare solo una questione di tecnicismi, è una questione, secondo me, di rimente, perché è la politica che deve dare gli indirizzi e la visione di una decisione così impattante. ed è la politica che, tra l'altro, ha approvato il programma elettorale, dove, tra le altre cose, si prevedeva la riqualificazione, la valorizzazione di tutte le aziende agricole ai fini di incrementare il turismo legato all'attività agroalimentare. In corso è anche la discussione sui PICS, ci sono 10 milioni di euro sul tavolo, si poteva magari intervenire o si può ancora intervenire in quel senso? La sindaca risponde alla mia istanza tramite il giornale dicendo che non ci sono i soldi, dicendo che i PICS sono destinati alle diamicis. I soldi c'erano e ci sono.